non riesce il borgia a dare seguito alla vittoria di due settimane fa interna contro l'aurora reggio e in cappa nella sua terza sconfitta invece casalinga oggi ai danni di un taverna che poteva e anzi doveva probabilmente essere una diretta concorrente per le posizioni play out quello che è peggio che il borgia rimane ultimo in classifica insieme all'aurora reggio stessa a cinque punti e vede allontanarsi le squadre che sono al quintultimo posto oggi addirittura sarebbero ben nove i punti di distacco il che significa che con tante giornate ancora da giocare per la precisione oggi siamo all'undicesimo quindi ne restano quasi 20 due terzi addirittura di campionato c'è il rischio che si possano concretizzare quei dieci punti di distacco che significherebbero retrocessione diretta però parliamo di altro parliamo della partita di oggi è un borgia che ben messo in campo nel primo tempo ha trovato un nuovo elemento in venere che ha giocato abbastanza bene che è stato schierato in difesa che ha dato una certa sicurezza alla squadra tanto è vero che al di là del gollo segnato da giglio dopo appena tre minuti giglio del traverno ovviamente dopo appena tre minuti poi è stata la squadra di casa a fare la partita ha tentato subito di rimettersi in parità ci è riuscito con gulli al quattordicesimo poi ha avuto le occasioni migliori appunto del primo tempo tanto è vero che il taverna si è visto di nuovo in attacco solo sul finale di partita è sempre con il solito giglio che è stato stoppato dalla difesa del del borgia nel secondo tempo poi invece preso il gol al sesto ancora una volta dal centro avanti ospite con un bellissimo colpo di testa sul calcio di punizione di pupo è come se la squadra di casa si fosse un pochettino sfaldata non ha avuto più la continuità non ha avuto più la possibilità di portarsi in attacco sono state poche le occasioni per pareggiare e poi ci è venuta anche la la prima l'ammunizione per proteste poi l'espulsione per un fallo di reazione di quello che secondo me è stato l'uomo migliore del del borgio oggi quel passafaro che ha cantato e portato la croce come sol dirsi in questi casi dovendo sobbarcarsi sia il peso dell'attacco sia il peso di collegare e di unire i reparti ha tornato indietro ha avuto buone occasioni per potersi fare vedere ha giocato ma alla fine poi il nervosismo forse lo ha preso lo ha colpito ancora una volta il che è incappato nel rosso e da quel momento in poi il borgia non è più riuscito tant'è che il taverna non è più riuscito a portarsi dalle parti del portiere di marco di marco del del taverna tant'è che invece è stata proprio la squadra ospite ad avere altre occasioni per poter triplicare quindi mettere al sicuro il risultato ma alla fine il risultato è rimasto quello del che maturato all'inizio del secondo tempo il 2 a 1 per un taverna che è stato abbastanza cinico diciamo ha saputo tenere il campo folino ha saputo mettere bene in campo la sua squadra con giocatori di esperienza nei vari reparti che possono essere quelli più importanti e ha saputo gestire appunto la partita colpire al momento opportuno e sapersi difendere e quindi una vittoria importantissima per questo derby delle squadre che giocano entrambi al curto non avendo la disponibilità del proprio campo e bisognerà vedere adesso con l'avvento del mese di dicembre quando ci saranno la possibilità quando ci sarà la possibilità di poter rinforzare la squadra le squadre le compaggini le rose per se il borgia reputerà opportuno trovare qualcuno oggi ripeto è venuto un nuovo esordio si parlava di qualche nuovo rientro di qualche innesto bisognerà vedere se si vorrà rinforzare questa squadra oppure si continuerà secondo me in maniera abbastanza serena giocare quella che poi una bella avventura quella della promozione se non ci si fa prendere dal nervosismo tutto può andare ancora bene e avere un futuro sempre in questa categoria